A conclusione degli interventi di riqualificazione avviati a febbraio scorso, Largo Pignatelli viene restituito alla città, una superficie di circa 6.000 metri quadrati con un'isola centrale che ospita le uscite della metrolinea 6, attrezzata con aiuole, alberi, panchine, nuova illuminazione ed impianto di videosorveglianza. Il progetto dell'architetto Boris Podrecca è stato realizzato di concerto con la sovrintendenza ed ha interessato inizialmente il tratto della riviera da Largo Pignatelli a Piazza della Repubblica, dove è stata ripristinata anche la pavimentazione di carreggiata in marciapiedi. Consistenti anche le operazioni di riqualificazione del verde con la salvaguardia delle essenze arboree preesistenti ed il reimpianto in villa comunale di circa 100 alberi. Sull'isola sono ancora in corso gli interventi di restauro e ricollocazione della statua del generale Enrico Cosenz e della fontana storica preesistente.